Allora si è detto niente ripidone? Cioè voi sì, io no. Spero sia chiuso. Ti devo ripilleare? Ripilleo te. Ti ripilleo o ripilleo? Ripilleo te. Sì ma gli anzionati davanti è una banda. Sì. Oh e c'è un lazzo a giro Flavio eh questi. Lazzo, lazzo. Chi ha foreto? Mi sembra molto periglioso a me questo vaso. Andate giusti eh, non d'anzianotti. Attenzione, attenzione. Mi sono fermato eh. E' quello periglioso eh. Non puoi sbagliare. Oddio. Maiala, questo monte è sempre peggio. Maiala, questa è la sera quella di voglia. Questa è la stia iniziata. Questa è la stia inizia. Allora. Allora. Mi sono andata. Allora. Allora. vedi niente aspetta un minuto attenzione qui questo è perioloso ci potrebbe essere problemi di aderenza marrone benedetta attenzione qui attenzione qui attenzione qui Sempre vedi i punti Grazie